Sono Filippo, ho 26 anni, vengo da Milano, sono laureato in scienze motorie, ho frequentato un master in fitness and personal training quest'anno, è il primo anno che collaboro con The Garden, io sono sempre stato appassionato di skate, capoeira, corpo libero e snowboard e da sei anni ho l'opportunità di seguire il mio sogno che è quello di insegnare un pochettino ai ragazzi, principalmente ai bambini, ai ragazzi ma poi anche agli adulti tutto quello che è la preparazione fisica per lo snowboard, per gli action sport in generale e adesso quest'anno qua, il primo anno con The Garden siamo gasatissimi di provare a vedere un pochettino come unire tutto quello che è il mondo del trampolino, dell'acrobatica, della preparazione a quello che invece è il mondo dello snowboard ed è bellissimo poter lavorare con loro perché secondo me in Italia sono i numeri uno da quello che è il punto di vista della preparazione tecnica e sono sicuro che unendo il lavoro su trampolino a corpo libero si possono raggiungere ancora obiettivi migliori e sono gasatissimo di poter continuare con loro diciamo con questa opportunità. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!